Sono state completate le attività di bonifica e riqualificazione dell'area naturalistica di Bocca d'Oro. Dalle ore 18 di ieri l'area è finalmente fruibile per la prima volta al pubblico. Le attività di riqualificazione sono state svolte dall'Associazione Delfino Blu, partner del Comune di Trani, nell'ambito del progetto Esploriamo gli ambienti, percorsi didattici nella biodiversità attraverso la riqualificazione dell'area umida della vasca di Bocca d'Oro. Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, che ha consentito al Comune di riqualificare sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque sorgive e sia l'intera area verde. Il luogo sarà fruibile anche nelle settimane a seguire mediante l'organizzazione di una serie di iniziative di promozione e valorizzazione ed attraverso visite didattiche per studenti e cittadini. Sono 30 anni che la Lega Ambiente si sta occupando di quest'area e oggi con dei fondi che sono stati rischi disponibili grazie all'Associazione Delfino Blu, un'associazione giovanile, e quindi con il contributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è restituita quest'area alla pubblica furibilità e anche ad un recupero naturalistico. Abbiamo visto gli uccelli che sono ritornati dopo 30 anni, dopo che la vasca è stata ripulita. La vasca è stata ripulita dalle agenti infestanti, è stato recuperato anche dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista storico il profilo della vasca e quindi tutta l'area ritorna fruibile, ritorna l'accesso alla balneabilità della zona, ritorna la possibilità di godere di questo luogo a meno. Verranno avviate delle visite turistiche in maniera ormai stabile, perché ormai si intende presidiare quest'area. Questa è un'area che era stata lasciata al degrado più assoluto. Questo è un progetto vinto con il Dipartimento della Gioventù, che prevede diverse fasi di questo progetto. Come prima tranche è stata bonificata e recuperata la vasca ottocentesca delle acque sorgive di Boccadoro. Sono state estirpate alcune delle canne qui presenti, ormai in stato di degrado e di abbandono. Non era più un habitat naturale delle varie specie qui presenti. Da un po' di giorni a questa parte stiamo risentendo il suono delle varie specie presenti, ormai assenti da diversi anni e stanno ritornando pian piano. Questo è un parco naturalistico della città che la città non sapeva di avere. Era quasi una leggenda la vasca di Boccadoro, la zona di Boccadoro. Stiamo parlando invece di una delle zone più belle della città e non soltanto della nostra città. Oggi, grazie alla determinazione di questa amministrazione, dell'assessore all'ambiente di Gregorio, ma devo dire anche e soprattutto delle associazioni che hanno portato avanti questo progetto, da Delfino Blu, all'Ega Ambiente, a tutti coloro che si sono prodigati per realizzare un sogno, che è quello praticamente di restituire alla città questo parco. Sarà aperto ogni mercoledì già per visite guidate ai cittadini, ma soprattutto da settembre con le visite per i ragazzi della nostra città, delle nostre scuole.